a me questo gioco fa sinceramente paura però vediamo che cazzarola esce fuori vabbè allora gli obiettivi sono prendi almeno il 60 per cento dell'accuratezza dell'asciugamano apri almeno cinque ombrelloni e metti la protezione solare almeno cinque volte sono tutti i panciuti cosa devo fare ai mouse perché dove andava schiaffi sul culo le vecchie vieni qua bella culona abbona niente ah ecco vedi gli ho messo la crema ma che schiava gli ho messo l'olio la maionese gli hai messo prego prego ci penso io venga io sono bravissimo a mettere a metà la schiuma qua sembra che gli che gli che gli vomito addosso adesso avrò il parasole ma perché va a fuoco quello la spengo io venga non lo posso prendere fisicamente ma è troppo tardi con gli schifo solare non so se qualcuno ha cagato vieni qua niente non ci sono parasoli ma crema io non ho capito una mazza questo gioco posso essere sincero vai che stai nuotando sei riuscito a baggare anche questo come fai a baggare ogni cosa che tocchi basta apri l'ascensore va a fuoco guarda che ti dicevo prima ci hai messo la salsa visto che va a fuoco è inutile che gli emeni è morto ormai abbandonano cina abbandonalo niente hai coperto l'omicidio con l'ombrellone di qua non ci non è un maiale che poi prende la frustata e condurlo complimenti ha scoppiato bello questo beh origine si ma la teoria è buona per me che non è non è pensato per quello per me che quando i amè non è pensato per me insegnare ca' un bambino in ho scopiato! No! 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 No!